ciao a tutti oggi prepareremo la crostata di frolla alla nutella con crema di pistacchio mascarpone e panna il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora e trenta minuti circa gli ingredienti sono una dose di crema al pistacchio mascarpone panna per la pasta frolla alla nutella farina di tipo doppio zero uova nutella aroma di vaniglia e sale diamo il via la ricetta mettere da parte momentaneamente la crema al pistacchio e riporre in frigo mettere nel boccale la nutella le uova il sale e l'aroma di vaniglia ed azioniamo il bimbi per due minuti a velocità 4 aggiungere la farina ed amalgamare per un minuto a velocità 5 formare un panetto avvolgere nella pellicola trasparente e riporre in frigo per almeno un'ora trascorso il tempo abbiamo ripreso la frolla dal frigo adesso la stenderemo tra due fogli di carta da forno in una sfoglia sottile trasferire in uno stampo per crostate del diametro di 28 cm rivestito con carta da forno buccherellare il fondo con i rebbi di una forchetta cuocere in forno prediscaldato a 180 gradi per 30-35 minuti circa la crostata è cotta lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuovere dallo stampo e farcire mettere la crema e livellare bene spolverizzare con granella di pistacchi e servire crostata di frolla alla nutella con crema al pistacchio mascarpone e panna grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti grazie a tutti